Dopo un paio di mesi di tregua riecco le bande dei furti d'auto. Dopo i colpi in serie avvenuti fra febbraio e marzo che avevano visto in azione criminali professionisti depredare autovetture in tante zone della città, questa volta i ladri si sono accaniti nel quartiere di Muraglia con una tecnica ben precisa. Nella notte, fra mercoledì e giovedì, 11 garage sono stati violati da una banda di professionisti che ha tagliato con un frullino le serrande basculanti delle auto rimesse penetrando all'interno e racimolando un bottino di tutto rispetto. Già perché i malviventi sono riusciti a prendersi una Porsche con amarissima sorpresa del proprietario. Non meno dolci le sorprese di chi si è visto sottrarre tre bici, una delle quali del valore di 5.000 euro. Nel dettaglio i ladri hanno aperto sei garage di un condominio in via Guerini, altri quattro in via Petrarca e un altro ancora in strada dei condotti. I condomini sono stati derubati nel sonno e al mattino hanno constatato i furti prontamente denunciati alla questura. La polizia indaga su ogni elemento utile, dalla videosorveglianza alle tracce di pneumatici sull'asfalto fino alle testimonianze. Chiaro che si tratta di professionisti del furto, probabilmente trasfertisti e che forse si sono serviti pure di camion per caricare auto e bici.